Ben trovati su Grandangolo, il canale YouTube dove cerco di mettere a fuoco il mondo che ci circonda. Oggi parliamo insieme di elezioni legislative in Francia per capire se è vero che Emmanuel Macron, il presidente francese fresco di elezione, sia in un momento di difficoltà senza precedenti e possa essere definito un re solo al comando. Vi ricordo però, prima di cominciare, di iscrivervi al mio canale per non perdere nessuno dei miei prossimi video e soprattutto di farmi sapere quello che è il vostro punto di vista nei commenti qui sotto. Di Francia abbiamo già avuto modo di parlare, abbiamo parlato del tasso di astensione che purtroppo accompagna ogni appuntamento elettorale francese, un po' come l'Italia, e del forte problema di legittimità che le istituzioni repubblicane soffrono in questo momento. Emmanuel Macron è fresco di un secondo mandato da presidente, un risultato importantissimo, ha stracciato Marine Le Pen, ne abbiamo parlato in questo video che vi linko, con lo spettro della astensione che oggi gli consegna un parlamento balcanizzato ed eterogeneo. Macron, con la sua Repubblica in Marche, è il primo partito di tutta l'Assemblea nazionale, ma non ha i numeri per governare da solo. Il secondo e il terzo classificato sono infatti la NUP, un cartello di sinistra, e il Rassemblement Nazionale di Marine Le Pen. La NUP, guidata da Mélenchon, ha raggiunto un risultato stratosferico. Il problema è che è molto eterogenea come coalizione. Discorso diverso invece per il Rassemblement Nazionale di Marine Le Pen. Marine Le Pen, eterna sconfitta, raggiunge quota 89 deputati, un risultato storico, mai raggiunto dal fronte, che permetterà i rimborsi elettorali. Durante la campagna elettorale, Marine Le Pen era stata accusata di prendere fondi dai russi e si era giustificata dicendo che le banche russe erano le uniche a dare questa possibilità, a differenza delle banche francesi. Macron è alla ricerca di una coalizione, anche se al momento sembra molto lontana. Si smarcano tutti, sono corteggiati i comunisti che si dicono in disaccordo quasi su tutto con Macron. I repubblicani, che sono già stati chiamati, dicono di non voler fare stampella per nessuno, anche se poi si troverà sicuramente qualche quadra, come sta accadendo in questi giorni, per quanto riguarda l'elezione del Presidente dell'Assemblea Nazionale e l'elezione delle commissioni dell'Assemblea Nazionale. Macron è un Presidente solo, è un Presidente azzoppato. La Francia, che da sempre gioca un ruolo molto forte in Europa, si trova in posizione minoritaria. Anche a livello diplomatico si giustifica il forte presidenzialismo di Macron sulla scena internazionale, che non a caso è stato uno dei pompieri nei confronti dei rapporti con Putin. Dovrà necessariamente aspettare lo sblocco politico per riuscire a dare alla Francia un governo forte, in grado di risolvere i problemi e le sfide che oggi ha a Parigi. Un Macron più debole che dovrà fare i conti con tanta realpolitik, cosa a cui non era abituato fino a qualche mese fa.